come memorizzare la data della rivoluzione francese per memorizzare la data della rivoluzione francese è molto semplice 1789 il primo numero è 1 il secondo numero è 7 poi gli altri numeri sono 8 9 1 7 8 9 quindi dopo il 7 c'è l'otto dopo l'otto c'è il 9 è una data estremamente semplice da ricordare 1789 ricordare il legame che unisce i numeri per far sì che diventi facile ricordare le date ciao al prossimo video vi aspetto